Poco dopo mezzogiorno di giovedì 12 settembre, i vigili del fuoco sono intervenuti lungo la strada provinciale 75 a Piazzola sul Brenta. L'incidente si è verificato all'incrocio tra via Villa Franca e Scalona a Piazzola. Un camion rimorchio è finito rovesciato fuori strada dopo la perdita di controllo del conducente rimasto ferito. Sul posto sono accorsi da Padova i vigili del fuoco con due automezzi tra cui l'autogru. Hanno messo in sicurezza il mezzo pesante carico di rotoballe di foraggio, mentre l'autista è stato preso in cura dal personale sanitario del SUEM, danneggiato anche un palo del telefono. La polizia locale ha deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro.